Siamo presso la sede dell'Ordine dei Medici di Avellino, intenzionalmente potremmo anche togliercela la mascherina, però non la togliamo perché? Perché dagli ultimi studi, dalle ultime sollecitazioni, segnalazioni fatte da grandi esperti mondiali, proprio ho sentito qualche giorno fa, ieri sera, anche l'altro ieri sera, la mascherina copre quasi, diceva il dottor Sellitto che gentilmente ci ospita oggi in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino, la mascherina preserva dal Covid per il 93%, quindi qualche birologo ha detto per cortesia tenete la mascherina fino a chi andate a letto, cioè non bisogna mai toglierla e noi così seguiamo queste sagge indicazioni che naturalmente sono il prodotto di un'esperienza che drammaticamente ogni giorno si fa nei nostri ospedali, ma anche negli ospedali di tutto il mondo. Grazie dottor Sellitto in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici di Avellino di averci ospitato. Oggi noi parleremo della vaccinazione, della vaccinazione anti-influenzale, ci sono dei dubbi, le persone non sanno distinguere o hanno dei dubbi forti nel momento in cui hanno i primi segnali dell'influenza. Parliamo un attimo di questa, diciamo, della vaccinazione, le problematiche che lei in qualità di Presidente dell'Ordine dei Medici recepisce sia dai suoi colleghi e di come viene percepita questa vaccinazione e parliamo poi anche delle difficoltà connesse alla vaccinazione perché ci sono. Prego dottor. Allora, ne parliamo come Presidente dell'Ordine dei Medici, ma anche come medico di famiglia e quindi da persona che somministra il vaccino ai propri pazienti. E chiaramente, chiaramente dottore. Allora, noi per quanto riguarda tutti gli anni la vaccinazione, noi partiamo da giugno con questa pratica perché entro il 30 di giugno noi medici di famiglia presentiamo all'ASRA l'elenco dei pazienti da vaccinare che quest'anno costituisce una platea che è stata ampliata perché noi andiamo da, prima andavamo gli altri anni, gli ultra 65 anni, i pazienti con meno di 65 anni ma con fattori di rischio. Quest'anno è stato ampliato perché tutti gli ultra 60 anni saranno vaccinati insieme a quelli che hanno un rischio, diciamo, generico di malattia. Quindi noi abbiamo fatto questa operazione a giugno. Entro il mese di ottobre in genere ci vengono forniti i vaccini. Quest'anno c'è qualche problema su questa fornitura di vaccini perché l'enorme massa di persone da vaccinare hanno mandato un po' a quintilt tutto il sistema e quindi stiamo avendo questi vaccini a singhiozzo. Questo si innesta in una serie di problematiche che noi già abbiamo per le vaccinazioni perché purtroppo è cronaca di questi giorni, la provincia di Avellino, ha avuto un'esplosione dei casi di Covid. Quindi riuscire a vaccinare i pazienti in sicurezza sta diventando veramente molto molto duro. Noi stiamo mettendo in campo tutte le cose che potevamo mettere in campo. Quali sono gli elementi della sicurezza? Allora, innanzitutto evitare gli affollamenti e quando si vaccina gli affollamenti sono tantissimi purtroppo perché i pazienti arrivano a frotte per farsi vaccinare. Quindi cercare di dilatare nel tempo questa cosa e tutti noi stiamo facendo ore aggiuntive di ambulatorio solo per le vaccinazioni in modo da evitare che durante l'orario di ambulatorio quando si visitano le persone normali, le persone che hanno patologie croniche e quindi hanno necessità in questo momento di essere visitate dal proprio medico di famiglia perché gli ambulatori dell'ospedale e dell'altro lavorano a scattamento ridotto se non sono addirittura chiusi. E quindi l'unico punto di riferimento resta il proprio medico di famiglia. Allora dobbiamo evitare quindi che si facciano durante l'orario di ambulatorio e abbiamo stabilito degli orari. Laddove possibile qualche collega li sta facendo fuori dal proprio ambulatorio in strutture messe a disposizione dei sindaci che sono stati sensibilissimi a questa cosa, messe a disposizione dei sindaci strutture ampie con entrate ed uscite diverse in modo da creare un circolo ed evitare questi incroci pericolosi. Però chiaramente il rischio zero non riusciamo a garantirlo a nessuno, quindi noi ce la stiamo mettendo tutta come medici di famiglia, però chiediamo anche l'aiuto dei nostri assistiti di non accalcarsi, il tempo c'è per la vaccinazione. L'azienda sanitaria invece cosa chiede? L'azienda sanitaria ci ha fuori di vaccini e poi vuole riportare i vaccini. Non lei ha parlato di singhiozzi che ci sono nell'erogazione, perciò mi permetto di fare queste domande. No, noi con l'azienda sanitaria in questo momento abbiamo anche chiesto all'azienda sanitaria di interfacciarsi con i sindaci, con tutti i sindaci della provincia per metterci a disposizione quanto necessario, anche casomai operatori della protezione civile per riuscire a reggimentare bene le cose. Non sempre abbiamo avuto queste risposte in maniera chiara e univoca. Ho capito. Senta, come distinguere le due forme legate all'influenza normale o a un eventuale covid? Questo è un problema che investe tutti noi. Il problema è grosso. Perché? Perché diciamo ce le tutte. Manifestazione di tosse, rispiro, eccetera. Quali sono gli indicatori? Ecco dottore, senza perderci. Purtroppo tra l'influenza normale e l'inizio del covid, un covid che fa la sua strada senza picchi pericolosi non si distingue tanto facilmente. Purtroppo non è così. Allora il razionale del vaccinarsi sta proprio in questo. Ci dobbiamo vaccinare non perché se ci vacciniamo per l'influenza non prenderemo il covid, ma perché se ci prendiamo l'influenza molto probabilmente per paura andremo in ospedale. Avendo febbre a 39, il timore, la paura che sia covid e non sia influenza ci porterà ad andare in massa all'ospedale. E questo purtroppo manderebbe in tilt tutto il sistema sanitario regionale. Allora il razionale è di vaccinarsi, vaccinarsi tutti. Quelle categorie che noi abbiamo detto prima, quindi ultra sessantenni e pazienti con patologie, ma io consiglio a tutti di acquistarlo il vaccino presso le farmacie, laddove è possibile, laddove si riesca a trovare perché purtroppo anche questo e anche il proprio aggiornamento alle farmacie purtroppo è limitatissimo. E quindi di andare dal proprio medico di famiglia a farselo somministrare. Perché in questo modo noi riusciremo ad avere anche un'anagrafe vaccinale completa e eviteremo veramente di sovraffollare il servizio sanitario che in questo momento è in affanno. Io so che la campagna ha superato il 32% di posti occupati in rianimazione, che è la soglia limite di rischio che viene stabilita dall'Istituto Superiore di Sanità, che stabilisce un rischio imminente per un sistema sanitario. Dottore, mi scusi una domanda che per lei può sembrare elementare, ma di fatto non lo è per tante persone. Allora, il Covid si manifesta con tosse, perdita di olfatto e perdita di gusto, quello è uno dei sintomi più, la diarrea, si può avere rinorrea, quindi sintomi perfettamente sovrapponibili a quelli dell'influenza, perché sono tali e quali, salvo la perdita di gusto e di olfatto che non sono caratteristici dell'influenza, però la perdita di gusto e di olfatto non è una costante nella Covid. Io le dicevo prima che ho avuto 36 pazienti, in questo momento ho 36 pazienti, perdita di gusto e di olfatto non credo che superi il 10-15% di questi pazienti. Non è presente in tutti questa sintomatologia? No, a questo punto se si presenta un paziente febbrile, in piena pandemia, un paziente febbrile con tosse, casomai diarrea, un tampone non lo si può negare a nessuno, ma in questo momento c'è un caos tamponi che andrebbe un poco messo a fuoco. Mettiamolo un attimo a fuoco. Perché purtroppo, io per esempio, tutti i miei positivi li ho fatti testare privatamente, hanno pagato di tasca loro i tamponi. Tutti quanti, tutti e 36 sono andati presso i laboratori autorizzati dalla regione e hanno praticato i tamponi risultando positivi a questi tamponi. Chiaramente questo comporta due cose, una è il fatto che se la sono dovuto pagare, ma un altro c'è gente che va in giro positiva e va nei laboratori a farsi i tamponi, quindi bisognerebbe comunque mettere un poco di ordine in questa cosa. Le nuove normative parlano del positivo, del paziente sintomatico, non positivo, un paziente sintomatico sta a casa 10 giorni e poi si fa un tampone di controllo finale, oppure fa 14 giorni senza tampone può uscire. Ma questa è anche una cosa che mi lascia un po' perplesso, perché un paziente sintomatico può anche non essere Covid, può avere febbre da influenza, e quindi noi mettiamo in quarantena una persona con una semplice influenza, quando invece quello potrebbe andare dopo 3 giorni a lavorare, quindi bisognerebbe effettivamente organizzarsi bene con i tamponi. Pare che stiano partendo questi tamponi rapidi a carico della categoria nostra, dei mesi di famiglia, c'è molta resistenza, timore da parte dei colleghi per fare queste cose. Io dico invece che probabilmente se noi pratichiamo questi tamponi e lo facciamo in tutta sicurezza, abbiamo meno probabilità di infettarci che andando al supermercato a fare la spesa. Quindi io penso che noi possiamo farli, però li dovremo fare in sicurezza. Non dovremo farli, mi consenta questa, a mio avviso potremmo anche organizzarci però in maniera diversa non facendone nel nostro studio, perché andando presso le strutture che mettono a disposizione. Noi abbiamo costituito le AFT, sono partite già da un paio di mesi le AFT, queste associazioni funzionali territoriali, gruppi di medici che lavorano insieme anche se ognuno nel proprio studio. Si può stabilire, l'ASL può stabilire questa AFT a questa struttura a disposizione, uno fa i tamponi in questa struttura, ci potremmo organizzare mezz'ora ciascuno in questa sede dell'AFT a turno, facciamo una mezz'ora o un'ora ciascuno a settimana perché riusciremo a coprire tutto, siamo in parecchi e quindi fare i tamponi tranquillamente in sicurezza, ben equipaggiati chiaramente. Senta dottore, l'impressione che lei ha, come medico naturalmente, di questo virus è più aggressivo della volta scorsa? Il virus influenzale? No, no, il covid? No, l'aggressività è la stessa a mio avviso, non è cambiata assolutamente nulla. Ecco, una sua valutazione serena. La cosa che stiamo notando è che è spalmata su tutto il territorio nazionale, la volta scorsa era localizzato in una zona precisa, quindi lì li ha mandati proprio in tilt completamente, non siamo ancora in tilt perché è spalmato su tutto il territorio nazionale, quindi i casi ne sono di meno se li andiamo a vedere nei vari posti. non è un problema, quello che è estremamente subdolo, non stai mai tranquillo, nei casi che io ho avuto, febbre iniziale, tosse, poi 4-5 giorni addirittura di stato di buona salute, stavano bene, all'improvviso peggioramento, febbre alte e tosse, ricoverati con po' l'amidamento di quanto tempo dura di questo virus nel corpo umano? E questo è un altro problema, secondo le nuove disposizioni 10 giorni dovrebbe andare a posto, 14 giorni al massimo, però noi abbiamo pazienti che dopo 10 giorni si sono negativizzati, ma ci sono anche pazienti che a due mesi sono ancora positivi. Io, dottore, ho dovuto fare una domanda, come cittadino, in base alla sua esperienza di medico e l'importanza, vorrei segnalare, è l'importanza di rivolgersi per tutte le valutazioni al proprio medico di famiglia, perché il problema del covid è legato alla nostra immunità, alla nostra forza immunitaria e chi meglio del medico di famiglia può conoscere una fisicità, un sistema, vorrei che su questo lei facesse proprio una… Il medico di famiglia è una figura essenziale in questa pandemia, deve essere una figura essenziale perché il medico di famiglia conosce perfettamente il paziente, conosce perfettamente i contatti dei pazienti, quindi il medico di paziente riesce ad individuare immediatamente, noi abbiamo fatto l'isolamento immediatamente a Candida, io lavoro a Candida, si sa, abbiamo fatto immediatamente l'isolamento con l'aiuto del sindaco, tra l'altro, poverino, anche lui positivo, e quindi i pazienti sono tutti a domicilio, sono tutti in isolamento, questo grazie alle conoscenze che ha il medico di famiglia e che ha il sindaco chiaramente del suo comune e della sua gente, quindi il medico di famiglia poi può seguire questi pazienti a domicilio, chiaramente non necessariamente andandoli a visitare a domicilio, ma sentendoli continuamente, io li sento due o tre volte al giorno, mi aggiorno sulla loro saturazione, sulla loro febbre, in questo modo stiamo valutando, in effetti come vediamo un peggioramento chiamiamo l'ambulanza e poi si ricoverano, però si riesce a valutare perfettamente la salute di quel paziente, perché si ha conoscenza di quel paziente, quindi il peggioramento viene percepito immediatamente dal medico di famiglia. perché, ecco, diamo dei consigli concreti, siamo in chiusura di servizio però per lasciare due o tre messaggi forti, allora il primo è la distanza sociale, no? Sì, allora la prima cosa è rispettare i decreti del Ministero della Regione, sono duri, non durissimi però, sono duri ma non durissimi, per non rischiare poi quelli durissimi veramente, dobbiamo rispettarli assolutamente, perché se li rispettiamo, se ci comportiamo in linea con quei dettami, credo che il virus non avrà vita facile. Poi fatto questo bisogna ribadire sempre, noi il vaccino non l'avremo a breve, però un vaccino se vogliamo ce l'abbiamo già, è della mascherina, abbiamo detto che la mascherina batte del 93% la possibilità di infezione, quindi quale vaccino ha queste percentuali di validità? La mascherina se portata correttamente è sempre, come diceva, bisogna togliersi solo a letto, bisogna poi con chi, bisogna sapere con chi si va a dormire però, perché probabilmente anche lì forse bisognerebbe tenerla e quindi la mascherina è fondamentale, il distanziamento sociale oltre alla mascherina, non bisogna pensare che avendo la mascherina ci si può sbaciucchiare, perché ci si saluta, ci si abbraccia, no, il distanziamento va mantenuto, mascherine almeno un metro, ma io direi anche due di distanza fanno bene, assolutamente bene e poi altra cosa importante, l'igiene delle mani, perché il virus si trasmette anche per contatto, purtroppo si deposita sugli oggetti, quindi se noi li tocchiamo e poi ci portiamo le mani agli occhi, ce li portiamo alla bocca, chiaramente il virus ce lo trasmettiamo, ce lo curiamo, allora se noi continuamente curiamo l'igiene delle mani, queste tre cose semplici probabilmente ci permetteranno di contrastare bene il virus. Questo è per quanto attiene la prevenzione del Covid, per quanto attiene la vaccinazione anti-influenzale fatta con fiducia, quali sono gli elementi che determinano questa fiducia e in qualche modo ci mettono al sicuro da altre? Allora, la fiducia viene… Vaccinarsi con fiducia perché? Perché bisogna avere fiducia nel proprio medico di famiglia, perché li vaccina tutti gli anni non ci sono effetti collaterali del vaccino, non ne abbiamo mai riscontrati ringraziando il Signore, quindi andare a fidarsi al proprio medico di famiglia per fare la vaccinazione è fondamentale, perciò noi diciamo che non vanno fatti, deve essere capillare la vaccinazione, va fatta sul territorio, non centri prestabiliti, quindi il proprio medico di famiglia è capace di… perché conosce bene il paziente, sa quale paziente teoricamente non dovrebbe farlo questo vaccino e quindi se il medico decide che è opportuno vaccinarsi vuol dire che ha preso una decisione consapevole e bisogna fidarsi di lui. Va bene, c'è qualche altra cosa da aggiungere dottore? Assolutamente no. Vuol rivolgersi ai suoi colleghi, vuol dire qualcosa? No, i colleghi, i miei colleghi si stanno comportando in maniera esemplare, gli ambulatori sono aperti, sono a disposizione dei cittadini che hanno assolutamente bisogno, invitiamo i cittadini, i nostri pazienti a non venire allo studio per cose che si possono risolvere in altro modo, una ricetta di un farmaco cronico può essere fatta anche online, c'è stata data questa possibilità, la faremo online, in modo da non affollare le sale d'aspetto, altro punto critico è evitare gli affollamenti nelle sale d'aspetto dei medici di famiglia. Questo è fondamentale. Assolutamente sì. Per la tranquillità. Perché altrimenti non si sta tranquilli nessuno. Dottore, io la ringrazio per la sua chiarezza e per cortesia, teniamo sempre la mascherina e l'igiene delle mani, credo che siano i due riferimenti più importanti. Assolutamente essenziali. Ringraziamo il Presidente dell'Ordine dei Medici e vacciniamoci per l'influenza con un atteggiamento di sicurezza e di fiducia nei confronti del nostro medico di famiglia e della comunità scientifica in generale. Dottore, grazie. Grazie a voi. Grazie.